La critica è che ti ha detto che lo trovi. Non va bene cazzo, non va bene. E' per non pestare le barre. La gattri è una pena e la moresina. Senti qua, è tutto a punto. Ti vuoi che ti fai vedere inizio a sé. Vieni la mia tua cosa che stanno rovinando. Guarda qua, guarda. C'è l'elievo. Poi ci sono quel classo per voi. Se me te la stanno rovinando, la c'è stato. Andiamo! Volevo rovinare un cavallino. Sbagliando. G Tonsiamo! . . Grazie a tutti.